Ciao dolcezze, nuovo video, tag il tradimento, sono stata taggata da Asap, ASMR Asap, in questo video tag che ha ideato sicuramente lui, immagino se non sbaglio, mi ha taggato lui quindi grazie mille, Guido dovrebbe chiamarsi se non sbaglio, grazie. Grazie per il tag, per avermi taggato, io rispondo a queste tre domande perché il video tag si compone di tre domande ma visto che sono pro lissa sarà un video lunghissimo, no scherzo, però grazie Asap per avermi taggato, lascio il link del tuo canale per chi non ti conoscesse perché sei molto bravo a fare i video ASMR quindi grazie per il tag, appunto il tag ASMR si chiama il tradimento, questo è l'argomento del tag, tre domande e io inizio subito a rispondere. La prima domanda dice, hai mai tradito o tradita? Sei mai stato tradito o tradita? Sì, allora, sì alla seconda domanda, hai mai tradito? No, io non sono capace di tradire, se non sono felice con la persona faccio che lasciarla e basta insomma, cioè non tradisco, non sono capace, non riesco, non è nel mio DNA assolutamente, non mi piace tradire, cioè essendo stata tradita, così rispondo alla seconda domanda, cioè alla seconda domanda della prima domanda insomma, perché poi la seconda domanda è sei stato perdonato, quindi due domande in una, sei mai stato tradito e insieme alla domanda hai mai tradito? Tutto insieme, comunque io non ho mai tradito, ma sono stata tradita, appunto non tradisco perché so cosa vuol dire essere traditi, ok? Non tradisco perché so cosa vuol dire essere traditi, sia in amicizia ma soprattutto in amore, so cosa vuol dire e si sta male, si soffre tanto, almeno nel mio caso ho sofferto come un cane, due volte sono stata tradita, forse anche tre, ma due volte l'ho saputo, la terza volta non lo so se è successo veramente il tradimento oppure no, comunque io sono sempre stata tradita nella mia vita, quelle poche volte, sempre, quelle poche volte che ho avuto delle persone non serie vicino, sentimentalmente parlando, E quindi non voglio che gli altri subiscano le stesse cose che ho subito io, insomma, il tradimento è una cosa brutta ragazzi, da entrambe le parti, sia se tradisce la donna, sia se tradisce l'uomo non è bello, piuttosto di tradire io dico lasciatevi e basta, infatti io così faccio Comunque ho risposto, la seconda domanda dice, sei stato perdonato o hai perdonato, io sono sempre una che porge l'altra guancia, che perdona sempre, ma basta se adesso dovessi stare con qualcun altro e vengo a sapere o scopro o me lo dice lui magari che mi ha tradito o che mi tradisce, Cioè, col carattere che ho adesso a 30 anni non so se riuscirei a perdonare, anni fa ero giovane, 20 anni, 21 anni, 18, puoi perdonare quando sei giovane, quando sei infantile, quando sei innocente, tra virgolette, no, diciamo così, però ho sempre perdonato prima, ma adesso non so se riuscirei veramente a perdonare, non credo, col carattere che ho adesso se me la fai sporca O se mi fai le corna, comunque in generale, non so se riuscirei a perdonarti, perché sono un po' cattiva adesso, ultimamente sto diventando cattiva, non va bene, però sempre subire cattiverie non va bene, è sempre un tappetino, quindi in generale dico, quindi mi sto facendo valere, sto facendo valere le mie ragioni, insomma, i miei motivi, diciamo così, non so come spiegarvi, però sì, ho sempre perdonato, io non avendo mai tradito, non sono mai dovuta, Non sono mai stata perdonata, non ho mai dovuto essere perdonata, perché se non tradisci non devi essere perdonata di niente, insomma, questo è il discorso, l'argomento è questo Terza domanda, cosa pensi del tradimento in generale, che è una cosa sbagliata, che fa soffrire e che soffre, secondo me, sia chi lo riceve e anche chi lo fa Perché magari alcuni si divertono a tradire, ma alcune persone si soffrono anche quando tradiscono, perché poi tardi capiscono che è sbagliato tradire, che è una cosa da non fare Che non dovrebbe fare mai nessuno, perché se non ami più una persona, stai da solo, ti separi, se sei sposato, ti lasci se sei fidanzato, se non ami più la tua fidanzata, o tua moglie, o la tua compagna O il tuo compagno, stai da solo, o da sola, ma non tradisci, perché se ami, veramente non tradisci, io questo penso L'amore vero c'è, esiste, ancora, dopo le delusioni che ho preso, credo ancora nell'amore vero, comunque, duraturo soprattutto, serio, esiste E il tradimento nell'amore vero, nell'amore serio, nell'amore reale, duraturo, non esiste, non è contemplato per me, il tradimento non deve esistere, c'è capito? Non so se riesco a farmi capire bene, non credo, perché chi ha tradito non capisce la mia mentalità e il mio pensiero Che alle persone a cui piace tradire, magari loro non capiscono quello che dico Ma io la penso in questo modo, poi ognuno la pensa come vuole, insomma, no? Non so voi come la pensate, fatemi sapere con un commentino qui sotto, se volete rispondere Se non avete un canale, se volete rispondere, fatemi sapere come la pensate voi su questo discorso Però io credo che il tradimento sia una cosa sbagliata Che è bruttissimo scoprire o essere scoperti quando uno tradisce O magari scoprire il fidanzato o la fidanzata che ti fa le corna con un'altra donna mentre sta con te L'uomo o la donna che sta con te, insomma, è un casino È brutto anche fare le cose di nascosto dalla tua compagna o dal tuo compagno È bruttissimo fare le cose imboscate I sottrafugi, cioè è una cosa bruttissima A qualsiasi età Per me è sbagliato Commentate ragazzi, a presto Per me è sbagliato Per me è sbagliato